E. Gay Sports. It's in the gay. Se mi è arrivati quarti va bene. Il campionato quarti e semifinale di Coppa va bene. Più se mi mincete anche la Conference. Tanto meglio. No, ma come è tornata la palla. Franco, un angolo. Ancora Franco. Andrzejewicz. Ecco, mi fa incazzare sta cosa. Era partito, ha togliato la palla e è tornato indietro. E lo ha perso ovviamente. Sì, vabbè, quante finte... Quante finte gli vuoi far fare? Come lo vuoi fare, gol? Ancora una volta. Il gol è dovuto da... Indovinate un po'. Stupitemi. Una meccanica rotta. Ragazzi, però c'è automatico. Tutte le partite andiamo a svantaggio. Probe, minchia, dove l'ha messa? 1-1 al primo tiro. Primo tiro, meno male. Dai, fai... Fai sto kick of glitch. Fai sto kick of glitch. Fai... Oh, tutte le volte che battono il calcio d'inizio dopo un gol arrivano a porta. Incredibile. Buono, Andrzejewicz la recupera. Solanke, Solanke. E tiri in diagonale, cazzo. Cosa? Ma la pesa al portiere, raga? Se lo facevo io un errore così, raga? Se lo facevo io... Altro che rimessa dal fondo. Battevo io sì, ma dal centrocampo battevo. Brobe. Oh, raga. In area vengono... Come tocchi la palla dentro l'area? Hai due difensori. Hai raddoppio automatico. Quando la toccano loro, come il gol che hanno fatto, sono completamente soli davanti il portiere. Puoi solo davanti il portiere? Se ci vado io, comunque la sbaglio. Già, vero, Solanke prima. Brobe. Due a uno. Andiamo, Solanke. Si è riscattato. Si è riscattato. Non è che si deve riscattare, si deve riscattare il gioco. Dinamo Zagabra è in vantaggio con la Juventus. Questo è interessante. Tante Sievic, Broby, 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 Broby. La para. Meno male, che culo. 3 a uno. Oh, io vi voglio questo, quello che voglio questo. Palunga, contropiede, ma importa il fai gol. Cioè, non mi pare un'assurdità così. Veramente immonda. Sinistro. Palo. Ha assaggiato il Kiko Flitch, ragazzi. Ho sempre detto, ho detto anche prima. Vanno sempre in porta quando battono. Cioè, fare un gol è la cosa più rischiosa a questo gioco. Tu a questo gioco non puoi fare gol, perché o lo sbagli, o se lo fai con gli altri, comunque automaticamente arrivano a porta col Kiko Flitch. Cioè, in questo gioco sei... Sei fottuto qualsiasi cosa tu faccia. Anche la più innocente, ovvero fare gol, non lo puoi fare. Cioè, che palo ho perso. Franco ancora. Oh, fuori. Non è mai fuori gioco, mai fuori gioco. Non è mai fuori gioco, non è mai. Ragazzi, cioè, ma io non posso, io non posso ribattere tutto. E questi ritirano. Ma fatemi ripartire una volta, no? Ma guarda! Ma guarda! Ma guarda lì! Ma c'è, ma io non posso fare nulla! Brobe, brobe, brobe. Godo! Bastardi! 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 Merde inglesi, merde! 4 a 1! Godo! Brobe, fa il quinto! 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 Siamo al finale, ormai siamo al finale. Fa il quinto, brutta testa. Che cazzo! Tipetta di Brobe! Andiamo al risultato e simuliamo il ritorno. Godo! Dinamo Zagawa Juventus 2 a 2. C'è ancora speranza, magari. È mental! 2 a 2. Espulso Candela. Fantastico! Puntate al quarto posto. Sì, certo! Chi è che parte? Mena, dimmi che parte meno. No, Salinas. Perfetto. Due anni a West Bromwich. Valide Newcastle. Io metto guerra titolare e simulare la partita. Anzi, metto anche Jacobs. Andiamo così. Perdiamo? Anzi, 2 a 2 solo. Anche sbaglia il rigore. Cazzo, va bene. Però va bene. Broby e Candela che tra l'altro ho squalificato in campionato. Siamo in finale con Latina Mozza. Zagabria! Cotto, coppi del cazzo! Cotto, 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 coppi del cazzo! Tuente è l'ultima di campionato. Bacche del Candela squalificati. Col tuente dai, una vittoria. Niente. Sempre rimonta. Va bene, il campionato è finito. Siamo arrivati forse quinti, sesti. Allora prima siamo arrivati ottavi, non ricordo. Quinti, conferenze lì. Vincendo arriviamo quarti. Dinamo Zagabria. Ultima partita di questa stagione. La squadra è tutta riposata. Broby è salito a 82. Peters a 76. No, forse si era già a Boop. Vabbè. Una cosa è certa. Guerra e Jacobs li voglio. Guerra tra l'altro è salito a 66. Quindi il posto se lo merita. Jacobs vedo se farla entrare. Vediamo come va. Giocheremo all'Olympic. No, è stato generico per la finale di Conference League. No, ma impegnati, cazzo. C'è 110 stati. Piove. C'ho le mani sudatissime. Dov'è la coppa? Dov'è? Voglio vederla. Eccola qui. Ecco la coppa. No, ho messo le maglie uguali. Non mi dite che ho messo le maglie uguali. No. No, raga. Ho messo le maglie uguali. Va bene. Dovremo in modo di scamparla lo stesso. Candela buono. Buono. Guerra. In finale. Proprio lui dalla primavera. Guerra. Che la passa Broby sottoporta. La inzacca lui. E voglio questo primo tetto europeo. Lo voglio. Con tutto me stesso. Dubcic. Bravo. Franco. Bravissimo. Broby guerra. Fuori gioco. Già. No, era buono. No, l'ha buttata via apposta. Però poi giochi con la Lazio e ti tira fuori le terze maglie, capito? Giochi con Newcastle che è bianco e nero, ti tira fuori le terze maglie. Le seconde maglie, insomma, quello che cazzo è. Io sempre di più devo capirlo sto gioco, ragazzi. Ogni volta è sempre peggio, ogni anno peggiora. Guerra. Solo anche. Che culo che c'hanno. Che culo. Joaquin. Joaquin in bocca all'Uva. Che come è? Ah, Livakovic. Ok. 1-0. Oh, si stancheranno poi di fare il Pullman di qua, eh. 4-3-1. Nenca a parlarne. Solanke. Temporeggio al difensore, Solanke. Ha sprecato l'opportunità. Posso ammettere che dopo l'Helzink, ragazzi, è la squadra più scarsa che ho trovato in Europa, per ora, ed è una squadra che si sta giocando la finale di Conference League. Posso dirlo? Sì, posso dirlo. Perché è la verità. Madonna. Ma poi si fa un autogol. Ma tanto, ragazzi, l'inculata è sul vassoio. L'inculata, ragazzi, è sul vassoio. L'ha nuso. Brobei. 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 Solanke. 2-0. Doppio assist di Brobei. Solanke, signori. La sua finale. Guerra e Solanke. Altro da parte della difesa. Solanke. Non perdonarlo. Non perdonarlo. 3-0. Chiusa. Game, set, match. La UEFA Conference League. È del vanide. Possiamo tranquillamente dirlo adesso. Io avevo aspettato un po', ma adesso possiamo dirlo. Colby sulla destra. E metto Jacobs. In porta. Treno di giocatori. Anche Formosanligno a festeggiare. La finale più brutta di tutte. Di una coppa che fa schifo con delle maglie che non si vede in un cazzo. Ermeli. C'è il gol del 3-1. Gli Ubicic. Gol. Inutile. È vero. Potevamo non prenderlo, ma vabbè. Colwell. Rimette tutto a posto. Rimette tutto a posto Colwell. D'entrato. L'inglese. Con lui preso dalla Premier. Anzi, dalla Premiership. Come si chiama? La Championship. Dalla Serie B inglese. Formosanligno. Formosanligno. La para. Finisce qui, ragazzi. Il nostro vanidea. La seconda stagione conquista. La sua prima. Coppa. Internazionale. Il suo primo trofeo europeo. È la UEFA Conference League. Siamo usciti dall'Europa League, ragazzi. Il gioco ha deciso di far così. Siamo stati anche abbastanza sculati, perché... Dinamo Zagabria, che butta fuori la Juventus in semifinale. Cioè, la Juventus fa veramente schifo. Oppure, non me lo spiego, ragazzi, perché... Cioè, se Dinamo Zagabria è una squadra imbarazzante. Tre gol fatti da errori difensivi loro. Cioè, è assurdo. Comunque, ragazzi. Tutto fa capanna. Si raccoglie tutto quello che si può raccogliere. E ora raccogliamo la Coppa. Raccogliamo la Conference League. Il trofeo che a FIFA non ho mai vinto. E magari, spero, la prossima stagione vincere uno un pochino più bellino, no? Che dite? In attesa di vedere il mercato dei centrocampisti, cosa avrà da dire? E' Colwell ad alzarla al cielo piovoso dello stadio generico di FIFA. I tifosi di Dinamo Zagabria che dovrebbero normalmente abbandonare lo stadio quando perdi la finale. Invece sono ancora lì. Immagini più in Cacca e Rara. E incordiamoci questi momenti di gioia. Di questa formazione che, ragazzi, comunque, tutto sommato per vedere, vedendola dove è partita, non è male, cioè, è cresciuta bene. Alcuni, ad esempio, il nostro CDC che è già un 77, 78, insomma, sono giocatori che hanno il loro da dire. Insieme alle giovani leve, Franco, Shabalala, Guerra, De Jong che vi è in prestito. Se non è una squadra che può fare parecchia strada. E ragazzi, si chiude così la stagione. Rosario Guerra è letto l'uomo partita, cioè, non so se l'avete letto. Guerra è stato l'uomo partita della finale. Cioè, fantastico. Una storia d'amore questa. Finisce qua la nostra stagione, ragazzi. Quinti in campionato e semifinali della Coppa d'Olanda. Trofei dei campioni, lasciamo stare. UEFA Europa League. Siamo arrivati terzi e abbiamo vinto la Conference League. Potevamo arrivare quarti in campionato? Assolutamente sì. La dirigenza non è tanto contenta di noi, ma ne abbiamo portato trofei, quindi, cioè, meglio di così cosa potevamo fare. Obiettivo stagionale in campionato raggiunto? Perché abbiamo raggiunto una qualificazione Europa che, comunque, viene oscurata dalla vittoria della Conference League. A meno i quarti di finale o la semifinale della Coppa d'Olanda. Cioè, gli obiettivi in linea con i nostri obiettivi, come diceva qualcuno. Eh, assolutamente.